Il diario di spezie di cui parla il titolo è in realtà il diario del cuoco protagonista di questo romanzo. Il diario su cui Luca, esperto di spezie, registra da anni meticolosamente dettagli relativi alle spezie che trove, che scopre o alle ricette che più lo interessano, ma anche le sue emozioni, i suoi pensieri, il suo punto di vista sulle cose che accadono. Il diario sarà per Luca un confidente e un appiglio nel viaggio che lo porterà a scoprire cose terribili e a fare scelte terribili nel viaggio in Europa assieme al restauratore. Sarà il suo unico appiglio per riuscire a tenere una rotta e una comprensione di quello che gli sta accadendo. Gli spunti da cui sono partito per scrivere questo romanzo, come spesso accade, sono casuali. Per esempio l'avvicinarmi al restauro è avvenuto attraverso una conversazione con una persona che non conoscevo bene. Eravamo in traghetto, ci annoiavamo e a un certo punto la fidanzata di un amico che appunto non conoscevo molto ha iniziato a raccontarmi del suo mestiere di restauratrice. Mi ha raccontato dei viaggi, dei clienti, delle tecniche di restauro e ho pensato subito che potesse essere uno spunto interessante per il personaggio di un romanzo. Qualche collaborazione su aspetti molto specifici, per le tele per esempio, allora mi avvalgo dei migliori, li scelgo e li impongo ai clienti. Per il resto faccio tutto da me. Voglio essere l'unico a metterci le mani. Non farà fatica a tenere i suoi segreti. In quello sono molto bravo, in effetti. Grazie.